Al termine, io chiamo qua accanto a me Valeria Chiodoppiate e tutti coloro che hanno contribuito perché c'è stato un lavoro, siamo partiti mesi fa per preparare questa mattinata che purtroppo sta volgendo al termine. Prego Valeria e grazie ancora. Grazie, grazie moltissimo Stefania per la conduzione di questa seconda parte. Io mi sono solo segnata qualche parola chiave che mi è sembrata fondamentale oltre al fatto che è stato davvero un incontro corale con le voci di tante persone che da diversi punti di vista hanno approfondito il tema memoria che conserva i fatti da non ripetere. Cultura e formazione, appello alla responsabilità sia per i datori di lavoro sia per i lavoratori attuali e quelli futuri. Cultura e formazione, ascoltare le esperienze e da queste fare dei passi avanti. Vorrei ringraziare tutte le persone che hanno lavorato anche dietro le quinte, alcune quindi le cito proprio con il nome, Maura Fassio, Mara Papurello, Gianluigi Guglielmetto, Anna Ceropchina, Anna Cogno, Dionigi Tibone, Federico Tibone, Gianni Perracchione, Paola Trentini, Riccardo Gili, Claudia Traversa, Silvia Uggetti, Marco Morella, Alberto Giustiniano, Don Silvio Caretto. Tutto il pubblico perché la partecipazione è stata così grande, così attenta, le persone che sono intervenute, i relatori, i moderatori, le coriste, i musicisti, Anima Confindustria, Canavera e Audi, Fondazione Cantabile, tutte le associazioni, gli sponsor, i donatori privati, i comuni di Rocca Canavese e di Cirie e la Fondazione Troia. Grazie a tutti. Grazie ancora e un buon proseguimento di giornata.